buongiorno ragazzi sto uscendo a fare questo piccolo video il sole va e viene però va bene così non ci lamentiamo dobbiamo lamentarci che ci sono sempre pure che è brutto tempo sempre 20 21 gradi qua si vado esco e vado a fare questo video ciao vedete che il tempo non vuole uscire oggi lo sapevo hanno fatto questa cosa qua verso valentino da mare che c'è un po di gente un po di gente c'è un po di gente c'è non era la praia che passa un po di serpisti ci sono al mare c'è c'è un po di serpisti ma non li vedete si vedono si un po di serpisti vediamo quanto c'è c'è un po di serpisti ci sono due che sono tre altri i serpisti sono la sotto la gente passeggia si oggi la giornata non è tanta guappa quindi c'è poca gente al mare c'è un ventarello del cazzo che rompe i coglioni e manca il sole però si può stare bene anche al mare sicuro c'è gente che si fa il bagno guardate questi ristoranti chiusi pensate a voi quanto lavorano quando è pieno qua vittorovic andiamo ancora un po giù non c'è tanta gente al mare oggi immaginavo immaginavo che c'era poco che bello dite la verità che bello è sto paesino no? che ne dite? che ne dite voi? stasera voglio uscire vediamo quanta gente c'è in giro stasera e vediamo ora abbiamo dei lavori di forse il sole va e viene vieni vai vieni non si capisce non si capisce che vuole questa giornata però stiamo bene lo stesso non ci lamentiamo che è meglio vedete? le belle casette questa è l'H10 l'altra H10 e questo qua ci sono delle case veramente belle che affittano a lunga temporada di qua e qui l'H10 è la calla principale la calla principale poco poco ma ci hanno messo un'altra volta che alle 10 c'è coprifuoco fino al 21 e vabbè che dobbiamo fare? questa è la legge e l'accettiamo